ecco ciao oggi ci troviamo qui sul po a pesca di barbie in compagnia di roberto un nostalgico tra cui maestro di pesca quella bolognese eccolo vediamo qua col suo primo bar si il suo primo barbo girati verso la fotocamera roberto facci vedere la cattura notti dio caro facci vedere il barbetto del po come sta andando la pescata roberto bene bene molto bene quanti ne hai presi fino adesso di questo è il sedicesimo ho visto che hai anche un bel barbo su un paio di chili nella massa come stai pescando normale di bigotini con quacana no col paio di legno